cari aspettatori e cari ascoltatori eccoci dopo la benvenuto lorenzo grazie velocissimo dopo la sentita lezione precedente per i miei studenti sarà passato qualche giorno per me è passato qualche minuto a parlare di una del lo so lo dico sempre un autore grandissimo eccetera questo qui è un autore è l'autore che veramente in italia e mica solo in italia perché va ecco flavio bentornato grazie anche a te mica solo in italia perché avrà anche un successo enorme a livello europeo anzi sarà quello che lo salverà perché in italia non avrà mai quel successo e quella fama che in realtà all'estero gli dà o almeno lo avrà solo nella parte finale della vita verrà riconosciuto come un grande autore prima all'estero che in italia che è luigi pirandello allora luigi pirandello praticamente spero che sia stato chiaro tutto il discorso fatto l'altra volta le novità di freud il testo letto insieme il concetto in natura multipla della psiche sto guardando perché il conflitto continuo che appunto c'è all'interno di un essere umano fra la razionalità e l'inconscio il fatto è su questo pirandello che era i suoi capolavori che che ci si rende conto anche questo non non ci sono in fondo cento centovent'anni non bastano per mettere in testa bene queste idee rispetto ai tremila anni e passa precedenti ci si rende conto che il confine fra salute e malattia mentale è molto labile appunto torniamo all'esempio di prima di quello che fa l'atto di cronaca nera estremo di quello che uccide moglie e figli sull'onda della rabbia o non sto giustificando nessuno voglio essere chiaro anzi non ce n'è bisogno perché abbiamo una stampa che spesso e volentieri giustifica anche troppo queste figure soprattutto quando sono maschili quando sono femminili scatta il concetto di vedova nera e cose del genere che insomma anche su questo si sarebbe da discutere e da riflettere molto comunque sia l'aspetto che ci dice freud guarda tu ti senti sanissimo guarda che ci metti niente a diventare malato barra pazzo ok basta che lì un attimo si distragga e pum viene fuori di tutto dal tuo inconscio e appunto come dicevo prima come fai conoscere l'inconscio non ci puoi parlare se sei fortunato ti parla lui attraverso i sogni ma auguri a capirlo eccoci qua e quindi praticamente abbiamo tutte queste innovazioni darwin eccetera eccetera già citato precedentemente nella lezione precedente lo dico ai ragazzi perché poi sono le pagine successive che avevo già anticipato nella lezione prima e tutta questa roba tutto questo uomo nuovo che si questo uomo che si scopre nuovo si scopre distrutto nelle sue certezze più importanti tutti questi concetti vengono trasposti in una letteratura assolutamente straordinaria il libro cita un po' di gente che purtroppo non faremo in tempo a leggere a scuola italo svevo lo so che si fa a scuola ragazzi italo svevo però io non sono così d'accordo sul dare singoli pezzi di romanzi italo svevo secondo me con tutto il rispetto perché ovviamente giustamente segue diversamente segue idee diverse fai fatica a leggere dei pezzi dei romanzi pur famosissimi e a capire che che roba pazzesca è la coscienza di zeno seletta adeguatamente insomma ovviamente seletta con una certa base culturale e quindi temo che non riusciremo a farlo così come non riusciamo a fare neanche appunto senilità che un'altra opera che trovo estremamente divertente da quanto è sarcastica da quanto è decadente james joyce il più grande scrittore secondo moltissimi del ventesimo secolo l'uomo che inventa l'uomo che sviluppa è un concetto di letteratura tutta particolare senza senza punteggiatura l'uomo che riesce a scrivere i pensieri che a noi sembra sempre di essere estremamente chiari a come pensiamo no è l'io che ci fa pensare che siamo chiari come pensiamo se ci perdiamo nel dormi vegli iniziamo a scrivere quello che ci viene in mente man mano che lo pensiamo a dio che essere chiari e james joyce appunto con stream con il suo flusso di pensieri per appunto è un autore straordinario e kafka che forse è il mio preferito fra tutti e tre devo dirvi sinceramente è quello più cupo è quello che veramente porta su è quello più paradossale è quello che porta subito in superficie queste queste novità che sono presenti questo per dire che se vi capita qualcuno di sta gente non scappate via ma figura fabio chiede scusa grazie per essere venuto insomma fabio non non scherzati per irritare insomma eccetera sarà una parola di kafka e e quindi già loro iniziano a utilizzare quel po che sanno le teorie freudiane all'interno delle loro opere tra l'analisi psicologica dei loro personaggi poi appunto viene ricordata la visione relativistica del mondo appunto il concetto di einstein tutto questo tutti questi temi trovano confluenza nella figura di pirandello adesso io vorrei anche per non portare troppa confusione dei miei studenti in questa lezione in realtà non non inizio poi sanato pirandello no come ne è fatto solitamente con la bibliografia eccetera perché il libro mette un piccolo brano di pirandello tratto al fumati a pascal adesso proprio come come una metafora come un esempio letterario del sconvolgimento dell'uomo in quel periodo e quindi lo leggiamo subito e poi con le prossime lezioni in realtà quando ci avviceremo un po più all'epoca di pirandello con la storia quindi magari faremo un po più di storia prima non lo so ancora in realtà non ho ancora deciso andremo poi a conoscere meglio l'autore ok quindi nessuna sorpresa oh mio dio c'è dato un autore che non ci ha detto niente no adesso leggiamo il brano perché è bellissimo per spiegare bene che cos'è l'uomo nel periodo che stiamo studiando in questo momento nel passaggio fra 800 e primo 900 e poi dopo dopo andremo veramente a vedere a vedere poi l'autore penso ecco pirandello se saltiamo svevo saltiamo un po di autori straordinari ma perché non lo so è una classe che cerco di dare quello che può che può ricevere che può apprezzare alla fine ogni anno è un po diverso se no noi non serviremo a nulla quindi questa è una classe su cui punterò soprattutto sulla prosa rispetto alla poesia e quindi pirandello fremo molto perché ha scritto le novelle che per me sono assolutamente strepitose ma andiamo a vederci questo brano allora il fumatia pascal uno dei libri che ho dato per l'estate fra l'altro a questa classe per cui sto facendo una lezione in questo momento è che qualche studente uno sicuramente mi ricordo che ne ha parlato l'ha letto è praticamente il primo romanzo non di pirandello ho beccato un altro degli errori della tre cani io ormai sto io la tre cani la stimo tantissimo se devo andare a vedere un termine etimologico vado sulla tre cani c'è anche un bel dizionario online l'enciclopedia online insomma è comunque un'istituzione però avevo questa lotta con questo collega che diceva tre cani contro wikipedia ecco io ormai mi sto segnando tutti gli errori che trovo nei video da tre cani e vado a dirgli che non su wikipedia invece è scritto bene ma anche vado lo scrivo io ho detto fra noi bene però questo è un altro discorso non di tu al mio collega per esempio il video da tre cani su pirandello dice che il fumatia pascal è il suo primo romanzo no è il primo romanzo di pirandello che ha un discreto successo una pirandello di romanzi nascritti degli altri prima come giustamente scritto anche qua sul nostro libro di testo non l'ho ancora citato in questa lezione di sacco incontro con la letteratura 3a per 800 e 900 edizioni scolastiche bruno mondadori pierson allora è il romanzo che intanto insieme a i romanzi di svevo inaugura la stagione la grande narrativa novecentesca italiana e qui fu mattia pascal uscito nel 1904 allora la storia gli studenti l'hanno già un po sentita durante l'interrogazione di quello studente che l'ha letto quest'estate comunque il concetto base lo ricordo pur magari ci torneremo meglio è che questo mattia pascal vince un sacco di soldi al casino tornando a casa scopre che hanno trovato un cadavere che è stato riconosciuto come il suo a quel punto praticamente è libero aveva problemi di famiglia tutto va bene con la moglie eccetera eccetera colpo di fortuna mi trasferisco a roma e faccio la bella vita e poi scoprirà che non è esattamente così ma di questo poi torneremo a parlare ecco la scena che vi faccio di cui vi parlo oggi che leggiamo insieme appunto per esemplificare quello che abbiamo visto nella lezione precedente ha cambiato nome matteo pascal si fa chiamare adriano meis vive in pensione perché non può comprare casa che documenti presenta per al catastro chi è lui non esiste vive quindi a pensione gente che accetta non è come oggi che ti chiedono 18 documenti per entrare in pensione nel 1900 bastava che portarsi soldi regolarmente e non c'era problema e segnavano il nome che tu gli dicevi di dare di avere e ospite del signor anselmo paleari che praticamente rappresenta il saggio folle pirandegliano una figura che è presente in tantissime opere mi ricordo per esempio lo zio di così a se vi pare e stanno conversando di fronte al manifesto teatrale e anselmo per descrivere proprio questa in maniera metaforica con una similitudine fantastica come si sente l'uomo in quel momento con tutte quelle novità tira fuori la figura del buco dello strappo nel cielo di carta del teatrino leggiamo la tragedia d'oreste in un teatrino di marionette venne ad annunciarmi il signor anselmo paleari marionette automatiche di nuova invenzione stasera alle ore otto e mezzo in via dei prefetti numero 54 sarebbe da andarci signor meis la tragedia d'oreste già da pressofocle cioè da sofocle dice il manifestino sarà l'elettra ora senta un po che bizzarria mi viene in mente se nel momento culminante proprio quando la marionetta scusate non tutti giustamente sanno la tragedia di oreste l'elettra di cosa parla elettra oreste figli di figli di agamennone agamennone a un certo punto si ritrova agamennone generale dell'esercito acheo in diretto verso troia a un certo punto si ferma su un'isoletta non c'è più vento l'invasione è bloccata e questa bonaccia va avanti per giorni e giorni e si chiede il solito indovino indovino dice caro agamennone praticamente devi sacrificare tua figlia ifigenia o ifigenia se vogliamo dirlo la greca ifigenia e lui dice ma veramente non c'è no non c'è altro modo allora cosa fa chiama manda una ovviamente non può chiamare la mamma non può mandare una lettera alla mamma clitennestra e dirle guardami mandi la figlia che devo nostra figlia che devo farla fuori le manda una lettera le dice gran colpo di fortuna che cosa fantastica il più forte degli eroi troiani troiani scusatemi achille pie veloce vuole sposare nostra figlia mandamela che facciamo le nostre subito la figlia arriva lui dice cara ti ho mentito devo sacrificarti per il bene pubblico lei accetta viene sacrificata poi euripide in una delle sue opere la salverà a te le trasportare via nel momento nel momento del sacrificio ma questo è un altro discorso in entrambi i casi clitennestra dopo scopre cosa è successo e non la prende ovviamente bene quindi convince il suo amante egisto a uccidere agamenone appena arriva fra l'altro agamenone non aiuta il fatto sicuramente il rapporto con la moglie non ha aiutato dal fatto che agamenone ritorna a casa con una schiava bellissima è questo quindi ovviamente si fa uno più uno più uno e a quel punto la moglie spinge l'amante a fare fuori clitennestra i figli non la prendono bene e quindi l'altra idea di elettra praticamente è la vendetta dei figli oreste spinto da elettra dalla sorella che uccidono appunto la madre e l'amante e quindi lui sta descrivendo proprio la scena clou quella in cui oreste sta per uccidere appunto la mamma clitennestra sarà l'elettra ora senta un po' che bizzarria mi viene in mente se nel momento culminante proprio quando la marionetta che rappresenta oreste e per vendicare la morte del padre sopra egisto e la madre si facesse se si facesse uno strappo nel cielo di carta del teatrino che avrebbe eh dica lei non saprei risposi stringendomi nelle spalle ma è facilissimo signor meis oreste rimarrebbe terribilmente sconcertato da quel buco nel cielo e perché mi lasci dire oreste sentirebbe ancora gli impulsi e la vendetta vorrebbe seguirli con smagnosa passione ma gli occhi sul punto li andrebbero lì a quello strappo donde ora ogni sorta di mali influssi penetrerebbero nella scena e si sentirebbe cadere le braccia oreste insomma difenderebbe amleto tutta la differenza signor meis fra la tragedia antica e la moderna consiste in ciò creda pure in un buco nel cielo di carta e se ne andò ci abbattando quindi oreste è lì sta per ucciderlo è pieno di vendetta stra si strappa il cielo e oreste vede che c'è qualcosa dopo che quello che lui pensava fosse il limite limite non è c'è qualcosa dietro cosa ci sarà dietro non lo so io sono io sono sempre quello di prima sto ammassando mia madre perché lo faccio per vendetta ma di colpo mi accorgo che rispetto a tutto quello che ho creduto fino a quel momento c'è qualcos'altro dopo io sono quello di prima ma posso continuare veramente a esserlo e allora oreste divertrebbe amleto che è il personaggio che rappresenta veramente il dubbio in shakespeare non solo per l'essere o non essere il personaggio che non riesce mai a essere completamente se stesso ecco questo è l'uomo che ha subito tutte queste rivoluzioni in questo tempo è sempre lui è quello di prima eh ma appena scoperto che c'è qualcosa dopo e c'è un bel po' dopo perché se pensate quanto è piccolo un trattino di maionette e quanto è grande il mondo per non dire universo e ragazzi da quel buco lì ti fa vedere che dall'altra parte c'è una marea di roba ecco questo è il nostro piccolo primo incontro con luigi pirandello che poi vedremo meglio andando avanti eh lezione breve anche perché quella precedente sta particolarmente intensa e lunga quindi grazie a chi è rimasto con me grazie a fabio grazie a flavio grazie a lorenzo grazie anche al giannistero che stasera non poteva esserci così c'è stata la possibilità di stare un altro poco assieme e ci vediamo per altre fantastiche registrazioni domani non fantastiche speriamo domani non penso perché come sempre il venerdì non è un giorno adatto particolarmente per i miei orari ma sabato e domenica penso che sicuramente qualche altra volta ci risentiremo sempre se volete stare con me max benvenuto sei arrivato tardissimo sto salutando tutti ma mi ha fatto piacere comunque vederti in diretta qua questo è stato un po' più breve del solito ma grazie a max per essersi fatto vedere adesso i miei i miei quattro cavalieri dell'apocalisse no dai dell'intelletto ci sono tutti grazie di cuore ragazzi per essere per essere qui con me è veramente un piacere stare con voi e grazie anche ovviamente a chi mi ascolterà in differita alla prossima visto abbiamo tempo oggi facciamo gli spanizi come si dice a bologna e mettiamo su anche la sigla grazie a tutti